Un saluto a tutti, sono Rocco Cavoto, responsabile agronomico Iara per il centro e sud Italia. Mi trovo in questo peschito, tra l'altro molto ben gestito, a Pastorano in provincia di Caserta ed ho il piacere di illustrarvi le nostre strategie nutrizionali con i prodotti Iara Vita, prodotti di elevati standard qualitativi e di efficacia garantita, in grado di soddisfare pienamente le esigenze di produzione dei nostri amici agricoltori. Quindi per il pesco, ma per le drupace in generale, focalizziamo l'attenzione su due fasi di sviluppo importanti. Il pre- e post-allegagione è l'ingrossamento dei frutti. Nelle prime due fasi consigliamo l'utilizzo fogliare, come tra l'altro già fatto da questo agricoltore, di Iara Vita Fruitrel più Iara Vita Biotrack. Questo innanzitutto per proteggere le piante da stress climatici in cui possono andare incontro durante il ciclo di sviluppo e poi per apportare soprattutto elementi nutritivi importantissimi come l'azoto, come il fosforo, come il calcio, che sono fondamentali in queste fasi di sviluppo da cui dipenderà poi la produzione futura. Invece nella successiva fase di ingrossamento dei frutti in cui ci troviamo attualmente, consigliamo sempre l'utilizzo fogliare di Iara Vita Biomaris più Iara Vita Senifos. Questo per attivare il metabolismo di ingrossamento dei frutti, quindi favorire la distensione cellulare dei suoi tessuti e quindi l'allungamento, e poi per migliorare le caratteristiche di colorazione, pezzatura e servevolezza dei frutti. Infine, poi vogliamo evitare quei fenomeni di spaccatura del frutto, aggiungiamo alla stessa miscela Iara Vita Stopit, cloruro di calcio fogliare totalmente sicuro sulle piante, che è in grado di prevenire questi fenomeni di lesione a carico dell'epidermide del frutto e favorire uno suo sviluppo uniforme.